Gesù ricrea il mondo, permette alle donne e agli uomini di essere creature nuove, ma tutto questo è possibile solo se ciascuno riconosce i propri peccati con nome e cognome. È la riflessione di Papa Francesco all'Omelia della Messa Mattutina celebrata a Santa Marta. Il Pontefice ha rimarcato che non è una questione superficiale di maquillage perché il Signore guarisce le piaghe dell'anima, ma per la guarigione esistenziale ci vuole una grande fede e il coraggio di mettere nelle mani del Padre Celeste tutti i propri limiti. Tutti siamo peccatori, ma guarda la radice del tuo peccato e che il Signore vada laggiù e ricree quello, e quella radice amara fiorirà, fiorirà con le opere di giustizia. E tu sarai un uomo nuovo, una donna nuova. Ma se noi, sì sì io ho dei peccati, vado, mi confesso, due paroline e poi continuo così, non mi lascio ricreare dal Signore, soltanto due pennellate di vernice e crediamo che con questo è finita la storia. I miei peccati, con nome e cognome, io ho fatto questo, 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 e mi vergogno dentro del cuore. E apro il cuore, Signore, l'unico che ho, ricreami, ricreami, e così avremo il coraggio di andare con vera fede, come abbiamo chiesto, verso il Natale. Grazie. 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 Grazie.